Il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, batte i pugni sul tavolo dell'azienda idrica dei comuni agrigentini. Ha incontrato i vertici dell'AICA. Non sono per nulla soddisfatto. Chiederò di essere audito dal Consiglio d'Amministrazione. Mi sento il dover di darvi notizie per quanto riguarda la problematica AICA. Avevo già anticipato che dovevo incontrare i vertici dell'AICA che ho fatto puntualmente. Non sono assolutamente però soddisfatto delle informazioni e di quello che è uscito fuori. Ho rappresentato le serie criticità che ci sono nella mia città e nella nostra città. Purtroppo la consortia che io mi sono trovato, quindi la realtà che ho ricevuto, non è una delle migliori soluzioni per quanto riguarda proprio questa tipologia di servizio. Allora, dovete sapere che in una società consortile ogni sindaco rappresenta un voto. Le decisioni vengono prese dal Consiglio di Amministrazione. Quindi chiederò di essere audito al più presto dallo stesso Consiglio di Amministrazione affinché tutte le criticità che ci sono ad agrigento, sia per quanto riguarda la distribuzione idrica, sia per quanto riguarda le rotture e tutti gli inconvenienti che vanno sorgendo giorno dopo giorno, vengano ripristinati e debellati definitivamente. E in ultimo voglio precisare che è vero che avevamo sottoscritto una convenzione con AICA nei mesi passati. Abbiamo già fatto degli interventi per 50 mila euro, 20 mila euro di espulghi e 30 mila euro di riparazioni, ma è anche pur vero che gli uffici poi hanno bloccato la stessa convenzione perché qualcosa non andava e si sta cercando di rimodolare. Voglio però dire ai miei concittadini che non voglio dare delle false aspettative. La situazione non è per nulla rosa. E comunque io farò di tutto per soddisfare le esigenze di agrigento. Grazie a tutti.